La Guardia Costiera di Soverato sequestra 447 autoveicoli e un'area di 15.000 m2. Nell'ambito dell'attività di servizio volta alla tutela dell'ambiente, i militari della Guardia Costiera, ufficio circondariale di Soverato, comandata dal tenente di Vascello, Leo Spina, congiuntamente al personale del servizio tematico, suolo e rifiuti del Dipartimento di Catanzaro e del Centro Regionale Coordinamento Controlli dell'ARPACAL, hanno sottoposto a sequestro penale 447 autovetture, depositate su un'area di 15.000 m2. I veicoli in questione, che per lo stato in cui si trovavano sono classificati quali rifiuti pericolosi, poiché contengono liquidi o altre componenti nocive, erano raccolti in tre depositi non autorizzati, costituiti da tre distinti appezzamenti di terreno agricolo senza alcun accorgimento tecnico che potesse evitare o limitare l'inquinamento del suolo e del sottosuolo. Le aree in questione per una superficie totale di quasi 15.000 m2, insieme ad altri 8 m3 di rifiuti di varia natura, rinvenuti negli stessi siti nel corso della stessa operazione, sono state parimenti sequestrate. Dalle indagini effettuate, i depositi di rifiuti sono risultati asserviti a una nota concessionaria della zona, pertanto il rappresentante legale della stessa è stato segnalato alla competente procura della Repubblica presso il Tribunale di Gatanzaro per le ipotesi di reato di cui agli articoli 256, 1, 2 e 3 del decreto legislativo numero 152 del 2006 per aver operato la raccolta e il deposito non autorizzato e in maniera incontrollata di rifiuti speciali di natura pericolosa e non oltre per il reato di cui è l'articolo 137, 1 dello stesso decreto legislativo per aver effettuato lo scarico di reflui industriali derivanti dalle acque di lavamento del terreno in assenza di autorizzazione. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.